Due prove scritte invece di tre più l'orale, più attenzione al percorso svolto dai ragazzi nell'ultimo triennio con un ponteggio maggiore assegnato al credito scolastico. Sono queste alcune delle novità introdotte con la maturità 2019, novità che hanno coinvolto a livello nazionale 500.000 studenti, 1.657 dei quali bellunesi, di questi 1.637 interni all'ufficio scolastico territoriale di Belluno e 20 privatisti. Per quanto riguarda i giovani della provincia, gli esami di Stato 2019, fanno sapere dall'ufficio scolastico del capoluogo, coinvolgeranno 87 classi, 44 commissari, 44 presidenti nominati e 163 commissari complessivi. Non va stato nessun abbrevivatario per merito, ossia quegli alunni che frequentano nel corrente anno scolastico e in generale nel medesimo anno in cui si svolgono gli esami, la classe quarta. 23 maturandi hanno invece richiesto la prova d'esame di Stato in formato speciale in quanto affetti da disturbi specifici dell'apprendimento o con disabilità. Oggi i ragazzi si sono cimentati con la prima prova di italiano. Tre le tipologie. Tipologia A, analisi del testo. Tipologia B, analisi e produzione di un testo argomentativo. Tipologia C, riflessione critica di carattere espositivo e argomentativo su tematiche di attualità. Ungaretti, Saiano e Sciascia, ma anche dalla Chiesa e Bartali fra le tracce assegnate per questa prima prova d'esame. È un po' difficile, il caldo comunque ha influito. Ho scelto la traccia B3 dedicata alla storia. Io ero un po' in ansia, però tutto sommato è andata bene. Non ho dormito stanotte. Non ero tanto agitata i giorni precedenti, però di notte si è sentito. Abbandonati i cellulari, i pc e qualsiasi altra apparecchiatura elettronica vietata durante l'esame, non sono mancati però i portafortuna. Sì, mi sono portata un portafortuna al braccialetto che mi aveva regalato mio nonno.